Avete mai visto una partita a bordo campo? Siamo tornati sullo stadio, Juve Stabia, Serie B, con Foto Ema, Sony Italia. Oggi siamo qui per la prima volta in notturna per vedere come si comporta il 300mm 2.8 di Sony. Mi presento il fotografo. Che figato ragazzi, di sera è un'altra cosa lo stadio. Partita è iniziata, siamo con Antonio Nargiulo. Siamo partiti in ritardo a causa del fumo. Come sta andando? Alla grande, mi ha cambiato la vita. Venendo da altri brand, Sony veramente lo svoltato. Siamo con Gerardo, figlio di Antonio, mentre il papà fa le foto, lui edita. Ora stiamo testando anche la bellissima e comodissima Z210. Un'ottima camera per iniziare, diciamo. Cronostico per la partita? Mutico, non si dice. E invece? 1-1! Senti, ma con 300mm, 2.8, a quanti sono stai scattato? L'illuminazione di questo stadio non è eccellente. Non sono scattato a 3.200. Avere dei tempi lunghi perché a me piace che il pallone sia bello nitido. Riesce a inquadrare tipo da qua il portiere. Ecco, questa è l'immagine croppata e questa invece è senza croppi. Ci piace, ci piace. Allora inizia il secondo tempo, molto combattuto. Subito 2-2. Altro, ma un pronostico lo puoi fare? No, no, stavolta non lo faccio. Perché c'è una partita terribile. Però meno male l'abbiamo ripresa subito. Il nostro bomberone. E mi ha fatto fare una sequenza di scatti prima. Incredibile. Eccoci qua, stiamo elaborando questi scatti meravigliosi. Da quanto tempo viene allo stadio a fare questo? Da da diversi anni. E tu poi cosa fai? Cioè li editi, che fai? Li seleziono, poi vengono passati post-produzione su Lightroom e infine poi vengono condivisi. E quanti anni hai? Quattro. Porca vacca. Cosa si prova ad avere un figlio che ha 14 anni e già è così appassionato e sta imparando tutto da te? I figli danno emozione a prescindere. Che poi gli piace anche il mio lavoro. A me fa solo che piacere. Partita terminata. Emozione incredibile stare in mezzo al campo con i giocatori a festeggiare. Non è stata vinta. Sicuramente. Ma bisogna godersi questi momenti. È incredibile veramente.